Sarebbe inutile negarlo. Molti oggi, alla notizia della tragedia della Varrosandra, si saranno chiesti cosa possa aver spinto due persone anziane ad intraprendere una rampicata in una delle giornate più calde dell'anno. Con tutta probabilità, la ragione sta anche nell'atteggiamento che la società dei consumi impone a chi entra nella terza età. I giornali e le televisioni per tacere della rete, da qualche tempo a questa parte, partendo dall'allungamento delle prospettive di vita, propongono per gli anziani modelli di anziani completamente diversi da quelli a cui eravamo abituati. Ottuagenari, nonagenari e centenari che si esibiscono in gare di rock and roll, che corrono la maratona e via di questo passo. Una generazione di uomini e donne d'acciaio che sembra non tener conto dell'anagrafe. Il fatto di arrivare a oltre gli 80 e molto spesso anche oltre i 90 e oltre i 100 ovviamente obbliga ad avere una risposta evolutiva sicuramente più legata a un'immagine di prestazione, di perfezione, appunto li crea dei supereroi. Un po' per il narcisismo di sopravvivere e un pochino perché appunto il fenomeno culturale li spinge a questo. Un simile atteggiamento che caratterizza già le nuove generazioni a un risvolto psicologico importante e che porta, se non a disconoscere, quantomeno a guardare con estrema sufficienza al concetto stesso di limite. Psicologicamente questo cosa comporta? Comporta che ci sia una minor tolleranza alla frustrazione, quindi che qualunque limite venga vissuto come nemico, come immediatamente da eliminare, da superare e questo porta spesso a delle scelte che possono essere anche esagerate e quindi pericolose fino al punto di mettere in discussione addirittura la propria sopravvivenza.